Buonasera a tutti, ben ritrovati all'ultimo appuntamento con la nostra informazione, quello della notte. La cronaca anche in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. Parliamo del colpo messo a segno questa mattina all'Agenzia delle Poste di Sant'Elia a Pianisi, un'azione da professionisti secondo i primi riscontri dei carabinieri che portano gli investigatori a seguire la pista della criminalità pugliese in due pistole in pugno. Hanno rapinato l'ufficio e sono scappati. Il colpo ha fruttato 38 mila euro. I particolari nel servizio di Giovanni Di Tota. La Puglia ha un passo nel giorno in cui si pagano le pensioni e l'obiettivo del piccolo ufficio postale di Sant'Elia a Pianisi in via Michelangelo Colavita, a poche decine di metri dal convento dei frati Cappuccini, è diventato un bersaglio facile. Appena prima l'orario di apertura, intorno alle 8, due uomini con il volto coperto hanno bloccato la direttrice dell'Agenzia impugnando due pistole e le hanno intimato di entrare nell'ufficio da una porta laterale. Difficile dire se le armi fossero vere oppure i malviventi avessero in mano due giocattoli. Fatto sta che i due hanno costretto la dipendente delle poste a entrare. Una volta all'interno, pare che i rapinatori abbiano avuto anche l'accortezza di staccare i circuiti delle telecamere interne ed esterne del server, in modo da interrompere qualsiasi registrazione video. Solo dopo aver staccato i cavi, hanno preteso dalla direttrice di prelevare tutto quello che era in cassa, soldi per liquidare ai pensionati il mese di ottobre. I due rapinatori hanno preso le mazzette di Euro, infilato il bottino in un sacchetto e sono scappati prima a piedi e poi, stando ad alcune testimonianze raccolte poco dopo, si sono allontanati su una lanciadelta di colore grigio. Scattato l'allarme, la zona dell'ufficio postale è diventata off limits per i curiosi. I carabinieri del comando provinciale di Campobasso hanno subito predisposto le misure antirapina con posti di blocco sulle strade vicine. A Sant'Elia sono arrivati anche agenti della squadra mobile. Fatta una prima ricognizione e sentiti i dipendenti dell'Agenzia delle Poste, l'ammontare della rapina è stato stimato in 38 mila euro. Fonti investigative riferiscono che le modalità del colpo, la sicurezza e la rapidità con le quali hanno agito i due rapinatori fanno pensare che possa trattarsi di criminalità pugliese. Professionisti che non hanno lasciato nulla al caso e che hanno agito con una chiara pianificazione del colpo. La pista potrà essere suffragata dopo aver sentito il racconto di chi ha assistito alla rapina, analizzato i reperti e le tracce eventualmente trovate all'interno dell'ufficio, ma i carabinieri hanno già rivolto la loro attenzione verso la Puglia. Cambiamo decisamente argomento. Il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Francesco Totaro, ha replicato alle parole del Premier Renzi nei confronti dei consiglieri molisani, in particolare di quelli del PD che votano al referendum, ha detto una caduta di stile. Così Totaro ha definito quanto detto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Pasquale Di Bello. Francesco Totaro, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. C'è stato un duro attacco del Presidente Renzi nei confronti dei consiglieri regionali del Molise, segnatamente quelli del PD che esprimono la propria preferenza per il no. Il Presidente del Consiglio sostiene che è una posizione strumentale solo al mantenimento dei privilegi. Io innanzitutto credo che si sia trattata di una caduta di stile da parte del Presidente del Consiglio, per due ordini di motivo. Il primo è che innanzitutto si offende questa nostra regione e tutti i cittadini, facendo delle battute, a mio avviso, non consentite a nessuno. Quando si parla di una regione, io credo che questa è una regione piccola e deve essere rispettata come tutte le regioni d'Italia. La seconda motivazione è di ordine di natura politica. Io voto no in maniera convinta perché ritengo che la Costituzione sia ancora attuale e che quei pochi articoli modificati, a mio avviso, siano degli articoli molto pasticciati. Per queste ragioni ho riconfermato e riconfermo il mio no netto alla riforma costituzionale. Ecco, poi il Presidente del Consiglio sembra fare anche confusione non conoscendo bene i fatti del PD molisano. Tra i consiglieri regionali del PD c'è anche chi vota sì come il consigliere di Nunzio, come il Presidente della Regione, Paolo Di Laura Frattura, che è un iscritto del PD. Certo, il nostro è un partito democratico e ci sono, come lei diceva, consiglieri che votano sì, ma che nessuno ha aperto nessun tipo di polemica. Ognuno ha mostrato le proprie ragioni, definendo in maniera netta e chiara le ragioni del sì come le ragioni del no. E credo che, insomma, non si doveva scendere così in basso dicendo che qualcuno vota no per difendere dei privilegi. Questo io credo che non sia consentito, anche perché potremmo dire d'altra parte che anche all'interno del Parlamento, dove qualche giorno fa era arrivata una proposta di legge che prevedeva la riduzione dei costi della politica, ebbene, il Parlamento l'ha rinviata in commissione invece di discuterla e di approvarla. Se fosse così dovremmo dire che anche i parlamentari sono legati allo stipendio e alla difesa del proprio interesse. Io credo che non sia così, ma ci sono ragioni che le istituzioni imbongono e che ogni eletto deve rispettare. E non si è fatta attendere la replica del governatore Frattura. Ho tutto l'interesse a chiarire questa situazione con il segretario del nostro partito, ha detto. Ne parlerò al più presto con Renzi, penso già nei prossimi giorni. Non credo che i consiglieri regionali molisani, a la sua considerazione, esprimano le loro valutazioni sul referendum in virtù del valore dell'indannità del consigliere regionale. Altri colleghi e io, ha aggiunto Frattura, abbiamo da subito espresso con convinzione l'appoggio al sì, così come evidentemente altri appoggiano il no. Le altre reazioni politiche, le dichiarazioni del premier Renzi, mortificano la dignità dei molisani e dell'Assemblea legislativa che li rappresenta. Così hanno detto Nunzia Lattanzio, Massimiliano Scarabeo e Angela Fusco Perrella, non riconoscere a quel sacco di abitanti del Molise pari dignità sociale, hanno aggiunto, determina di fatto lo svuotamento in democraticità dell'ordinamento. Renzi, hanno continuato, ha mostrato ancora una volta di avere idee poco chiare, sia sulle norme di diritto generale, sia su quelle di diritto costituzionale. Con il nostro no, hanno detto ancora Lattanzio, Scarabeo e Fusco Perrella, riteniamo di voler continuare a difendere una forma di governo parlamentare che tuteli la corrispondenza tra l'azione governativa e la volontà popolare espressa dagli orientamenti politici pluralistici del corpo elettorale e non da quelli di un singolo partito. Noi consiglieri regionali molisani del Movimento 5 Stelle già prendiamo quanto il sindaco di Campobasso, ma comunque siamo contro la riforma. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Antonio Federico, replica le dichiarazioni del Premier, appunto dichiarazioni riguardanti i consiglieri regionali del Molise. Cambiamo decisamente argomento, apriamo la pagina sindacale, perché davanti alle sedi del Consiglio regionale questa mattina c'erano lavoratori della gamma e dello zuccherificio in presidio per richiamare l'attenzione della politica sulla loro situazione e chiedono l'intervento urgente della regione affinché ci siano risposte chiare e definitive di servizio. Di nuovo davanti ai cancelli del Consiglio regionale per suonare la sveglia alla politica che sembra essere caduta in un lungo torpore invece di trovare una soluzione alle tante vertenze aperte. In presidio i lavoratori della gamma e dello zuccherificio due realtà industriali, un tempo fiore all'occhiello dell'agroalimentare molisano, oggi chiuse con i lavoratori abbandonati al loro destino. I sindacati non mollano la presa e incalzano la politica a fare la propria parte, ad intervenire e dare risposte certe e concrete alle centinaia di lavoratori e alle rispettive famiglie. Di nuovo davanti al Consiglio regionale e ai lavoratori della gamma. Il motivo di questo presidio? Il motivo principale è che come malauguratamente ci aspettavamo siamo arrivati alla fine del fitto del ramo d'azienda e ancora oggi sappiamo se i lavoratori potranno accedere alla cassa integrazione straordinaria o meno perché ci sono una serie di problematiche dovute al fatto di aggravare ulteriormente la procedura e quindi ci sono delle remore su alcuna liberatoria da far firmare ai lavoratori in cui i lavoratori dovrebbero perdere il diritto che nel caso in cui la cassa integrazione non venga accolta loro rinunciano alla mensilità, alle stipendi e quant'altro. Siamo arrivati in una situazione assurda, insopportabile. Noi oggi qui con la gamma siamo arrivati al punto di non ritorno se entro oggi, al massimo domani anche per dichiarazione espressa da parte di Berchicci che è il curatore della gamma non otteniamo una certezza rispetto a chi garantisce il periodo per l'attivazione della cassa integrazione questi lavoratori tra due o tre giorni saranno completamente in mezzo a una strada attraverso la mobilità. Visto che la Regione Molise già in passato si è fatta garante attraverso il piano concordatario di ben 12 milioni di euro che ha dovuto mettere per poter ottenere il piano concordatario non capiamo perché in questo momento non si riescono a individuare garanzie che tra l'altro non verranno mai spese se la cassa integrazione andrà a buon fine garanzie per dare il via e nulla osta alla richiesta di cassa integrazione. Qui rischiamo grosso, i lavoratori lo sanno ieri c'è stata un'infocata assemblea quindi da questo momento in poi l'assemblea è del tutto permanente con un presidio la Regione questa volta non può continuare a nascondersi uscisse allo scoperto e dicesse per davvero cosa vuole fare della gamma. Per lo zuccherificio siamo in attesa di conoscere un po' gli eventi e l'evoluzione rispetto all'impegno a suo tempo assunto sono passati un po' di giorni un po' di settimane e siamo ancora qui oggi a chiedere rispetto a quel percorso che cosa si sta ponendo in essere effettivamente e concretamente sulle politiche attive ma non solo quindi lo zuccherificio è una di quelle attività che noi come abbiamo detto più volte rientra in un territorio anch'esso fino a qualche tempo fa decentemente coperto dal punto di vista industriale adesso pesantemente in difficoltà e al di là dell'area di crisi ordinaria che è stata annunciata al momento non ci sono su quel territorio iniziative che fanno pensare a un futuro costruttivo e ricostruttivo a partire dallo zuccherificio per questo siamo ancora qui anche stamattina per lo zuccherificio stesso. Ed ora invece ci occupiamo di sanità e dell'integrazione pubblico-privato perché il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ha presentato un'interrogazione al governatore Frattura ho chiesto, ha detto se riguardo al rapporto con la fondazione Giovanni Paolo II che secondo il piano operativo diventerà partner importante per la sanità regionale fondendosi con il Cardarelli permangano i requisiti soprattutto sulla dotazione organica della struttura privata che è elemento imprescindibile per il pagamento delle prestazioni erogate sia certi ha continuato Scarabeo in che misura vengono rimborsati i farmaci oncologici e l'elevato costo per la cura delle malattie tumorali che secondo le norme contemplate dal decreto del commissario ad acta della regione Molise ha concluso Scarabeo vanno pagati nella misura che non superi il loro costo d'acquisto insomma la richiesta è che il rapporto sia equo onesto proficuo e soprattutto a vantaggio del cittadino l'Europa può finanziare una diga da 40 milioni di metri cubi tra la Puglia e il Molise si tratta dell'invaso piano dei limiti un'opera che il consorzio di bonifica di Capidanata considera strategica per lo sviluppo del territorio e per la gestione delle risorse idriche ce ne parla in questo servizio Fabrizio Occhionero se ne parla da anni ma tutto è rimasto sempre solo sulla carta il progetto di un nuovo lago artificiale da 40 milioni di metri cubi tra la Puglia e il Molise la diga piano dei limiti opera pensata a valle di Occhito annunci passi in avanti proteste fondi stanziati e poi finiti ma un'idea mai dimenticata il consorzio di bonifica della Capitanata vorrebbe realizzarla ma ora bisogna reperire le risorse necessarie un tema al centro di un incontro tenuto a Foggia che riguarda anche i territori del Molise in particolare Colletorto e San Giuliano di Puglia compresi nel progetto dell'invaso Giuseppe De Filippo e Francesco Santoro presidente e direttore del consorzio hanno condiviso l'utilità dell'opera che si inserisce in un piano più generale di gestione delle risorse irrigue noi ci speriamo ormai se ne parla da 30 anni e quindi ci auguriamo che qualcosa si possa muovere per accelerare per portare avanti questo progetto che rimane comunque un progetto strategico per il nostro territorio La strada individuata per reperire i finanziamenti necessari è quella dell'Europa così l'eurodeputata Elena Gentile l'Europa può intercettare questa domanda di sviluppo attraverso gli strumenti diciamo già conosciuti ma anche attraverso i nuovi strumenti che la Commissione e il Parlamento hanno messo a disposizione degli Stati membri penso all'Efsi cioè al piano Juncker che ha già dato ottimi risultati verificheremo diciamo la possibilità di incardinare questo appuntamento che è atteso da decenni in una visione moderna innovativa che l'Europa vuole assolutamente sostenere chiuso per motivi di sicurezza il ponte della provinciale 78 che collega Montemitro Montefalcone nel Sannio e San Felice del Molise ad Acqua Viva con le Croce il provvedimento ha creato molti disagi alla viabilità sollevando le proteste dei sindaci e dei cittadini che evidenziano la mancanza di un'alternativa e problemi per i servizi come il 118 e le corse degli autobus domani pomeriggio il presidente della provincia Antonio Battista e i tecnici di Palazzo Magno andranno sul posto per fare il punto della situazione e valutare possibili interventi della questione è stato interessato anche il prefetto di Campobasso sarà riattivato già nelle prossime ore nello stesso punto di prima l'autovelox di Macchia di Sernia sulla stata L85 Venafrana naturalmente la novità non è stata accolta affatto bene da chi aveva lottato per la rimozione di quel rilevatore di velocità vogliono fare i soldi colpendo lavoratori e poveracce il parere di Tiziano di Clemente responsabile del Partito Comunista dei Lavoratori che propone un'alternativa sentiamo di che cosa si tratta nel servizio di Sergio Di Vincenzo Il tempo di sistemare gli ultimi adempimenti burocratici e l'autovelox sulla statale 85 all'altezza di Macchia di Sernia tornerà in funzione nello stesso punto in cui era prima la conferma è arrivata direttamente dal sindaco Mario Stasi che assicura ad aver disposto tutte le verifiche necessarie per evitare ciò che accadde con la precedente amministrazione ossia la presentazione di una montagna di ricorsi al giudice di pace e alla prefettura di Sernia la novità ovviamente ha scatenato malumore tra gli automobilisti oltre che le solite polemiche sull'effettiva utilità del dispositivo per il partito comunista dei lavoratori più che prevenire incidenti si fa macelleria sociale intanto noi verificheremo se non ci sono elementi di licetà come accadde la volta scorsa e come hanno accertato i giudici di pace però a prescindere da questa verifica di legalità noi poniamo una questione sia sociale che di politica del traffico giusta noi abbiamo sempre detto che molto spesso questi autovelox vengono messi soltanto per fare cassa chiaramente a spese dei lavoratori e dei poveracci e invece ci sono altre soluzioni cioè viene usato come pretesto la sicurezza stradale ma in realtà gli scopi sono ben altri ci guadagnano società private e si tartassano i lavoratori e i precari i disoccupati la gente che ha bisogno nel caso di macchia abbiamo degli accessi illegali che sono stati creati nel tempo quindi prima creano le situazioni di pericolo poi le vogliono risolvere con l'autovelox quindi già è una risposta irrazionale eppure per prevenire gli incidenti stradali in un punto della statale 85 Venafrana comunque pericoloso un'alternativa all'autovelox ci sarebbe hanno più volte sottolineato il sindacato CSA il comitato Pro Trignina e lo stesso partito comunista dei lavoratori noi proponiamo da tempo una rotatoria di deflusso per quella zona che possa consentire alle auto di andare verso tra l'altro anche verso la zona commerciale e tra l'altro ci risulta come dicemmo tempo fa che un imprenditore aveva anche offerto gratuitamente quest'opera e fu rifiutata anzi furono sperperate altri soldi per chiudere un accesso e costruire quell'autovelox che poi è risultato anche abusivo La fondazione Giovanni Paolo II si è attivata per le popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia la direzione generale ha infatti pensato che un atto immediato e concreto di aiuto alle popolazioni possa essere fatto destinando il 5% di tutti gli introiti derivanti dall'attività privata visite ed esami per la ricostruzione di un ospedale individuato fra quelli che hanno avuto danni dal terremoto Attingeremo i fondi dal nostro bilancio ha detto il direttore generale della fondazione Mario Zappia e la spesa non graverà sul cittadino che continuerà a pagare le solite tariffe che dunque non aumenteranno E generi di prima necessità farmaci e fondi raccolti in Molise da Lanci sono stati inviati nelle zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto dello scorso 30 ottobre e lo ha reso noto il presidente dell'associazione dei comuni Pompilio Sciuli disponibilità è stata offerta anche dal personale tecnico per la rilevazione dei danni strutturali un corso che ha l'obiettivo di formare una figura professionale in grado di proporre soluzioni per lo sviluppo industriale per realizzare la digitalizzazione della filiera agroalimentare è stato illustrato nella sede di Assi Industrie a Campobasso dalla presidente della ITS Demos Rossella Ferro c'era per noi Tonino Danese Il 26 ottobre è partito a Campobasso il corso per tecnico superiore per lo sviluppo digitale della filiera agroalimentare che è stato organizzato dalla fondazione ITS Demos di cui lei Rossella Ferro è la presidente Questo corso consiste nel preparare ragazzi diplomati 30 per la precisione sulle nuove frontiere della fabbrica 4.0 quindi riuscire a in qualche modo utilizzare gestire quando non anche prototipare implementare moduli informatici che consentano la gestione digitale della filiera agroalimentare Come è organizzato il corso? I ragazzi che quindi si diplomeranno al termine di questo nuovo ciclo formativo che consiste di 2000 ore di cui 1000 in tirocini presso le aziende saranno proprio dei super tecnici proprio nella gestione digitale e quindi rappresentano un po' l'avanguardia perché tra due anni si troveranno proprio nel mercato del lavoro il cui fa bisogno da parte delle imprese è proprio quello di tecnici che sappiano gestire questi processi ormai digitalizzati Ecco sono diverse le aziende molisane che hanno aderito a questo progetto e a questo corso Le aziende sono diverse sia quelle della regione sia anche quelle che vengono da fuori regione oggi sono anche presenti come testimonianze e le imprese non a caso oggi ci troviamo in confindustria rappresentano un tassello fondamentale per lo sviluppo degli ITS perché concorrono a più livelli a quella che è la filiera di queste scuole speciali di tecnologia e loro in qualche modo orientano i nuovi contenuti dei corsi attraverso la restituzione del fabbisogno di competenze e conoscenze che desiderano ospitano nelle loro sedi i ragazzi in tirocini che abbiamo detto essere di mille ore ancora forniscono le docenze che per più del 60% sono di docenti che provengono dal mondo del lavoro e infine se abbiamo fatto tutto bene chiudiamo il cerchio assumono gli istituti tecnici superiori vale la pena forse ricordare che in qualche modo sono stati nel 2008 suggeriti da Confindustria e poi recepiti dal MIUR che li ha introdotti nelle sei aree tematiche che hanno ritenuto di interesse strategico per lo sviluppo socio-economico dell'Italia il nostro ETS quello Demos è nel comparto agroalimentare un ponte tra l'America e il Molise ovvero tra Princeton ed Isernia l'iniziativa vede come protagonisti una trentina di studenti americani dell'I School di Princeton arrivati a Isernia per perfezionare il loro italiano saranno ospiti dei pari grado del liceo linguistico Cuoco che a loro volta saranno ospitati a breve in America vediamo si è svolta a Petro Anello nell'incubatorio d'impresa del nucleo industriale la cerimonia di accoglienza di una trentina di studenti americani dell'I School di Princeton che saranno ospitati a Isernia nell'ambito di un programma di scambio culturale con gli studenti del liceo linguistico Cuoco che a loro volta a breve saranno ospitati a Princeton presente anche la regione con il presidente del consiglio regionale Vincenzo Cotugno che ha consegnato alcuni omaggi e ricordi del Molise ai docenti americani la scelta della sede della cerimonia non è stata casuale perché il paese molisano della provincia di Isernia da anni è gemellato con Princeton città dove anni e anni fa emigrarono a centinaia proprio da Petro Anello e non bisogna neanche dimenticare che fino a qualche anno fa il direttore dell'orchestra di Princeton era un iserrino il maestro Fernando Raucci insomma due comunità strette da tanti legami Petro Anello dagli anni 90 inizio anni 90 grazie alle amministrazioni comunali dell'epoca e anche grazie ai cittadini di Petro Anello a Princeton hanno iniziato questo percorso comune di gemellaggio e quindi sono stati tanti progetti che hanno coinvolto le due comunità e finalmente siamo riusciti già due anni fa grazie alla professoressa Donatella Schiavone siamo riusciti a realizzare quello che è poi il vero senso del gemellaggio Roberto Anello e Princeton una finestra aperta una finestra aperta per lo scambio culturale una finestra aperta come strumento di crescita culturale e ci siamo riusciti con due licei un liceo di Sernia e un liceo di Princeton lo scambio culturale tra l'Aig School di Princeton e il liceo linguistico Cuoco di Sernia è stato voluto dalla dirigente di Sanza come importante passo in avanti nella programmazione delle attività didattiche del suo istituto e nel potenziamento delle conoscenze linguistiche questo tempo sarà un momento molto interessante sia per i ragazzi che accogliamo sia per gli altri perché andiamo a condividere un po' non solo gli stili di vita ma anche il mondo culturale sarà un confronto sulle competenze linguistiche dei ragazzi questo è l'obiettivo prioritario ma anche un confronto più ampio per gli insegnanti sarà un dialogo sulle pratiche didattiche un confronto sulle pratiche didattiche nell'ottica della educazione interculturale sono due scuole che si sono aperte in questa prospettiva gli americani a Sernia perfezioneranno il loro italiano e poi una delegazione degli studenti Sernini del Cuoco andrà a Princeton a perfezionare il proprio inglese allora il progetto si divide in due fasi una che ha luogo a Sernia e l'altra che ha luogo a Princeton ora in questi giorni sono arrivati quindi i ragazzi di Princeton che sono 32 e i ragazzi di Sernia sono 36 del liceo linguistico di Sernia i ragazzi saranno insieme in questi giorni e soprattutto avranno un'esperienza scolastica quindi passeranno del tempo in classe con noi proprio per vedere come noi facciamo lezione e la stessa cosa faremo noi nella seconda fase a Princeton in cui andremo in aprile e passeremo diversi giorni con loro e trascorreremo appunto questi giorni molto sì anche visitando ma soprattutto avendo un'idea del loro modo di fare lezione e ora andiamo alla Basilica di Castelpetroso per la cerimonia di chiusura della Porta Santa vediamo è stato un anno molto intenso quello vissuto a Castelpetroso alla Basilica della Dolorata sono stati organizzati tanti eventi significativi tutti finalizzati a evidenziare non solo a parole il messaggio di speranza che Papa Francesco ha voluto lanciare quando a dicembre dello scorso anno ha dato il via al Giubileo oltre a esortare fedeli ad anteporre la misericordia al giudizio il Santo Padre ha invitato tutti ad abbandonare ogni paura e a vivere la gioia per questo la solenne chiusura della Porta Santa da parte del Rettore della Basilica Don Massimo Muccillo non deve essere vista come un qualcosa che finisce bensì come un nuovo inizio di un percorso di fede che faccia guardare al futuro con speranza e fiducia mi auguro che sia una spinta una spinta che ci consente di poter andare avanti e consente a tutto il popolo cristiano a tutti gli uomini di buona volontà ad andare avanti a non arrendersi a non fermarsi Dio è più grande del nostro cuore Dio è più grande del nostro peccato Dio è il Signore della vita non della morte e quindi è colui che ci invita sempre ad alzare lo sguardo e ad andare avanti e questa è secondo me la più grande opera della misericordia di Dio non ci possiamo fermare a guardare i nostri fallimenti e le nostre difficoltà ma dobbiamo andare avanti con fede con speranza con carità con coraggio alla cerimonia di chiusura della Porta Santa hanno partecipato anche le delegazioni dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro e del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta due organizzazioni molto legate alla Basilica di Castelpetroso una realtà che continua a richiamare un numero sempre maggiore di fedeli negli ultimi anni infatti le presenze sono aumentate in maniera considerevole dal 2014 nel 2014 2015 abbiamo avuto il doppio di persone che venivano negli anni 2012 2013 il doppio nel 2015 2016 abbiamo avuto il triplo di quella popolazione e devo dire la verità noi siamo stati contentissimi è stato un continuo afflusso di persone una cosa meravigliosa io la ritengo il miracolo di Dio che sta facendo in mezzo agli uomini proprio attraverso questa misericordia ed in chiusura l'appello per questa gattina di un mese e mezzo eccola vedete in queste fotografie che si è persa appunto cerca casa chi voglia adottarla può contattare come sempre la nostra redazione ed è tutto abbiamo finito grazie come sempre per essere stati con noi io vi ricordo che l'informazione di Telemolise torna domani mattina alle 7 come sempre con la rassegna stampa buonanotte grazie a tutti